dal libro dottrine di salvezza volume 3 joseph philly smith continuazione del capitolo 14 il mondo apostatico un altro profeta che dimorò in questo emisfero predisse che ai giorni nostri l'ira dell'inipotente si sarebbe accesa contro i abitanti della terra a causa della loro iniquità ma ecco disse nefi nei ultimi tempi o nei tempi dei gentili si tutte le nazioni dei gentili anche degli ebrei sia su questa terra che sulle altre terre si su tutte le contralle della terra saranno ebre di iniquità e di ogni sorta di abominazione e quando verrà quel giorno essi saranno visitati dal signore dei eserciti con tuoni e i terremoti con gran fracasso con ragani e con tempeste e con la fiamma di un fuoco divorante chiunque non veda non capisca che questa profezia si è letteralmente adempiuta e cieco davvero perché non possiamo allontanarci dalle nostre vie perverse perché non possiamo ricordare che siamo in verità i figli di dio e che se saremo obbedienti e se manteremo sia il nostro sano il nostro corpo avremo diritto alla pienezza delle pensioni del regno di dio tutti i uomini saranno giudicati secondo la legge evangelica sembra che soltanto pochi componenti della famiglia umana si rendano conto di essere stati collocati su questa terra per essere messi alla prova ciò per vedere se osserberanno o no i comandamenti divini tutti coloro che per la loro obbedienza supereranno la prova avranno la vita eterna che è l'esaltazione del regno celeste tutti coloro che sono impuri saranno espulsi da quel regno giovanni di la voce del signore che diceva chi è ingiusto sia ingiusto ancora chi è contaminato si contamini ancora e chi è giusto pratichi ancora la giustizia e chi è santo si santifichi ancora nella risurrezione ogni creatura avrà il suo spirito e il suo corpo restaurati per diventare immortale e mai più morire questi stessi corpi che possediamo qui saranno quelli che risorgeranno dai morti un antico proprietà ha scritto dunque tutto sarà rimesso nel suo ordine proprio ogni cosa nella sua forma naturale la mortalità elevata all'immortalità la corruzione all'incorruttibilità restaurata alla felicità senza fine per ereditare il regno di dio o alla misericordia eterna per ereditare il regno del diavolo gli uni da una parte gli altri dall'altra così avverrà nel grande giorno del giudizio ai giusti che si conserveranno puri il signore ha detto chi vince e reiterà queste cose e io gli darò dio e io gli sarò dio e egli mi sarà figuolo le nazioni cadono perché rigettano cristo è vero che un paese non può provvedire più rapidamente dalla della sua religione quanto più alti sono i nostri ideali quanto più rigidamente osserviamo la legge divina tanto più forti saranno le nostre forze spirituali nessun cristiano può rinunziare alla divinità di Gesù Cristo senza soffrire i paesi europei in cui il paganesimo ha preso il posto degli ideali cristiani sono destinati a decadere e alla fine se non ci sarà pentimento la loro precedente grandezza sarà dimenticata Gesù ha detto perché mi chiamate il signore signore e non fate quel che dico il mondo della carnalità il dovere dei santi in questo mondo malvagio noi viviamo in un mondo malvagio dove il cuore degli uomini ha abbandonato la verità per la menzogna la giustizia per la malvagità noi viviamo in un'epoca in cui i uomini sono giustamente ambiziosi cercando il potere e mettendo al tempo stesso in pericolo la libertà dei popoli conviene che noi membri della chiesa diamo ascolto ai consigli che ci vengono dati dai coloro che sono proposti alla nostra guida sotto Gesù Cristo tutti noi sappiamo di correre un pericolo imminente pericolo perché Satana è imperversa nel cuore della gente tutto questo è stato predetto e le predizioni si stanno avverando l'anticristo sta aumentando il suo potere e Satana ha inculcato nel cuore degli uomini o almeno nella maggior parte di essi la cupidigia e il desiderio di dominare e di approfittarsi di coloro che sono deboli il nostro dovere è di osservare i comandamenti del Signore di camminare in rettitudine e di difendere ogni principio di verità l'umanità carnale, sensuale e di avoida per natura per noi non c'è altra strada da percorrere se non quella della giustizia e della verità un antico profeta di questo continente disse l'uomo è di natura nemico di Dio oggi il mondo è divenuto carnale come era in principio quando Adamo cercava di insegnare i suoi figli il principio della verità eterna e Satana andò fra loro e ordinò di non credervi si legge e da quel tempo gli uomini cominciarono ad essere carnali, sensuali e diabolici noi vediamo questi segni predominanti nel nostro paese e in quelli stranieri gli uomini sono divenuti carnali, essi sono divenuti nemici di Dio essi cercano l'avanzamento personale e non quello del regno di Dio permettetemi di richiamare la vostra attenzione su questo patto che tutti voi naturalmente conoscete e cioè che noi viviamo negli ultimi giorni, nei giorni delle avversità, nei giorni della malvagità prosperità apparente nel loro mondo se noi osserviamo la religione rivelata dal Signore che noi abbiamo accettato allora non apparteniamo al mondo noi non dovremmo avere alcuna parte in tutte le sue sciocchezze non dovremmo partecipare ai suoi peccati e ai suoi errori errori di filosofia ed errori di dottrina, errori politici o di qualsiasi altra natura l'unico obbligo che noi abbiamo è l'osservanza dei comandamenti di Dio questo è tutto, essere fedeli è ogni alleanza e ad ogni impegno assunto nelle sue osservazioni di questa mattina fratello Spencer Kimball ha parlato di un uomo che pur pagando la decima, pur osservando la parola di saggezza e cercando di essere rispettoso di tutti i comandamenti dati del Signore doveva lottare per guadagnarsi da vivere mentre il suo vicino che non santificava il giorno di riposo che suppongo fumava e beveva che non faceva alcuna attenzione agli insegnamenti del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo come dice il mondo se la passava bene e prosperava sempre di più sapete, ci sono moltissimi membri della Chiesa che in cuor loro pensano a questo e se ne chiedono la ragione perché quest'uomo sembra essere benedetto da tutte le cose buone della Terra mentre tantissimi membri della Chiesa lottano e lavorano diligentemente per cercare di farsi strada dal mondo? la risposta è semplice se qualche volta e di tanto in tanto lo faccio vado a un incontro di calcio o di baseball o in qualche altro luogo di divertimento invariabilmente sono circondato da uomini e donne che stanno fumando sigarette, sigari o pipe è una cosa alquanto fastidiosa una cosa che mi disturba un po' allora mi volto verso sorella Smith le dico qualcosa ed essa mi risponde via, sai bene quello che mi ha insegnato tu vivi nel loro mondo questo è il loro mondo queste parole mi fanno rinservire sì, noi siamo nel loro mondo ma non dobbiamo essere di esso il loro mondo finirà presto quindi dato che quello in cui viviamo è il loro mondo essi prosperano ma miei buoni fratelli e sorelle il loro mondo si sta avvicinando alla fine e non passeranno molti anni ve lo assicuro io non so quanti ma quando Elia conferì le sue chiavi disse e da questo voi potrete sapere che il giorno grande e terribile del Signore è prossimo anzi alla porta e io sono certo che ora cioè più di cento anni dopo si può dire che questo mondo sta avvicinandosi alla fine verrà il giorno in cui non ci sarà più questo mondo esso sarà cambiato avremo un mondo migliore un mondo giusto perché quando Cristo verrà Egli purificherà la terra leggete ciò che è scritto nelle scritture leggete quello che Egli stesso ha detto quando Egli verrà purificherà questa terra da tutta la sua malvagità e parlando della Chiesa Egli ha detto che manderà i suoi angeli che raccoglieranno fuori del suo regno che è la Chiesa tutti gli scandali quindi avremo una nuova terra e un nuovo cielo la terra sarà rinnovata per mille anni e vi sarà la pace e Cristo regnerà perché ne ha il diritto successivamente si avrà la morte della terra la risurrezione la sua glorificazione ed essa sarà la dimora dei giusti e di coloro che appartengono alla rena celeste essi soltanto dimuoveranno in essa Eresia del cristianesimo apostatico nel 1820 il cristianesimo era completamente apostatico quando Joseph Smith andò nel bosco a pregare ricevette una rivelazione di conoscenza verità e potere che è stata di inestinabile valore e benedizione per il mondo quello che allora Egli fu rivelato aveva lo scopo di distruggere i falsi credi e le false tradizioni delle epoche passate e dalla fine portò alla restaurazione del Vangelo Eterno rivelato dal nostro Redentore durante il suo ministero per centinaia d'anni il mondo era stato avvolto da un velo di tenebre spirituali tanto che nel 1820 non c'era più una sola verità fondamentale del piano di salvezza che non fosse oscurato dalla falsa tradizione e dalle false cerimonie ereditate dal paganesimo per ordine celeste del nostro Signore Gesù Cristo Joseph Smith restaurò tutti questi principi nel loro primitiva bellezza e potere la prima visione dimostra la dottrina dell'apostasia Joseph Smith dichiarò che nell'anno 1820 il Signore gli rivelò che tutte le chiese cristiane erano in errore perché insegnavano per comandamenti le dottrine degli uomini gli insegnanti religiosi dicevano di essere nella luce e nella verità malgrado il gran numero dei loro credi contrastanti parlando degli ultimi giorni Amos disse ecco vengono i giorni dice il Signore l'Eterno che io manderò la fame nel paese non fame di pane o sede d'acqua ma la fame e la sede di udire le parole dell'Eterno Paolo disse perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina ma per prudito di udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distorieranno le loro orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole nessuno vi tragga in errore e in alcun maniera poiché quel giorno la seconda venuta di Cristo non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato il figlio della perdizione di nuovo vediamo come Joseph Smith si è in accordo con la vericità biblica le dottrine apostatiche predominavano al tempo della prima visione quali erano le condizioni del mondo religioso che dichiarava di credere nelle dottrine del lettore e di praticarle quando il padre e il figlio appalgero a Joseph Smith per istruirlo la risposta si trova nelle parole del Signore che sono simili alla predizione di Isaia e ne sono anche da riempimento essi si avvicinano a me con la loro abbra ma i loro cuori sono lungi da me poiché insegnano per dottrine e comandamenti umani e hanno una forma di religiosità ma ne rinnegano la potenza alcuni degli insegnamenti e delle pratiche principali erano i seguenti che Dio padre il figlio e lo spirito santo non sono tre personaggi ma un Dio etereo e immateriale sconosciuto e inconoscibile per l'uomo che riempie l'immensità dello spazio 2 che il canone della scrittura è completo e che dopo il trapasso degli apostoli non doveva esserci più rivelazione nessuna apertura dei cieli né comunicazione degli angeli ma la gente avrebbe dovuto affidarsi soltanto a quello che è scritto nella Bibbia o che le sarebbe stato insegnato dai suoi sacerdoti 3 che il battesimo ci purifica dal peccato originale e che tutti i fanciulli dovevano essere ridenti attraverso il battesimo e se non erano battezzati sarebbero periti 4 che il battesimo è un'ordinanza accetta al Signore soltanto se è amministrata aspergendo o versando acqua sul capo degli adulti non battezzati o degli infanti 5 che gli uomini possano arrogarsi l'autorità dei ministri della parola di Dio senza essere né debitamente investiti da Gesù Cristo 6 che l'organizzazione della Chiesa istituita al tempo di Gesù Cristo e dei suoi apostoli non è più necessaria non ci sarebbero stati più apostoli profeti e doni dello spirito 7 che l'uomo non è stato creato a immagine di Dio perché Dio non è un essere antropomorfo 8 altre dottrine quali le necessità delle chiavi per la restaurazione di Israele e della venuta di Elia come è proclamato nelle scritture non sono necessarie la dottrina apostatica condanna i non cristiani il signore disse a Nicodemo che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio tutti coloro che professano di credere nel nostro salvatore devono riconoscere che quest'ordine è vero è definitivo tuttavia nei secoli passati e anche ora nelle cosiddette comunità cristiane una sbagliata applicazione di questa dottrina ha indotto a errori molto seri e involontariamente commettere peccati molto gravi vi riferisco alla dottrina secondo cui tutti coloro che nella carne non professano di credere nel nostro signore o che non sentono parlare di lui prima che la morte li tolga dalla terra sono dannati per sempre e sono senza alcun mezzo per sfuggire ai tormenti dell'inferno questa falsa concezione della verità evangelica è stata un insegnamento del cosiddetto cristianesimo sin dai primissimi secoli della nostra era ma non ha mai fatto parte del Vangelo di Gesù Cristo Dante descrive la concezione apostatica dell'inferno nella sua divina commedia Dante descrive la dottrina della dannazione per le anime sfortunate che sono morte senza la conoscenza di Cristo come insegnava nel secolo XIII l'opera ha inizio con lo smarrimento di Dante in una selva dove incontra Vergido un poeta latino il quale gli permette di mostrare il castigo dell'inferno e del purgatorio successivamente il poeta vedrà il paradiso Dante dunque segue il poeta latino attraverso l'antinferno e poi nel limbo che secondo il racconto è il primo cerco dell'inferno qui sono confinate le anime di coloro che hanno vissuto in vita virtuosa e onorata ma non avendo ricevuto il battesimo meritano il castigo e sono negate loro per sempre le benizioni della salvezza come Dante guarda queste anime infelici e vede come la storia dice turbe molte grandi di infanti e di femmine e di viri e si meraviglia la sua guida gli chiede tu non dimandi che spiriti sono questi che tu vedi quindi il vigilio prosegue o vuo che sappi innanzi più che andi che non peccaro se li dann se li hanno mercedi non basta perché non è per battesimo che è parte della fede che tu credi e se furono dinanzi al cristianesimo non adorarono debitariamente a Dio e di questi cotai son io medesimo per tai difetti non peraltro rio semo perduti e sol di tanto offesi se senza speme vivemo in disio in risposta alla domanda del suo ospite mortale che desidera sapere se qualcuno di quelli così puniti abbia avuto il privilegio di uscire da quella triste condizione di tormento Virgiro dice che i giusti che hanno conosciuto Dio dai nostri primi genitori fino al tempo di Cristo sono stati fatti beati ma di quei sfortunati che non hanno mai udito parlare di Cristo e gli dice che senza speme vivono in disio ma Dante non era l'autore di questa infelice ed errata dottrina essa era nata nei primissimi giorni della possesiva dai veri insegnamenti di Gesù Cristo che vergogna che questa stessa spaventosa dottrina sia riecheggiata attraverso il tempo sin da quel lontano giorno di tenebre spirituale e che ripetutamente abbia fatto giungere il suo terribile scampanio tormentoso alle orecchie delle alme dovute che hanno cercato la salvezza dei loro morti la dottrina apostatica della predestinazione il Vangelo di Gesù Cristo è un Vangelo di mesiricordia e un Vangelo di giustizia deve essere così perché proviene da un Dio di mesiricordia non da un mostro crudere certi ipocriti dichiarano e credono quanto segue per ordine di Dio per la manifestazione della sua gloria alcuni uomini ed angeli sono predestinati alla vita eterna ed altri sono predestinati alla morte eterna questi angeli uomini così predestinati e per ordinati hanno un destino particolare e immutabile e il loro numero è talmente certo e definito che non può essere né aumentato né diminuito non è orribile pensare che la verità evangelica sia stata così travisata e profanata da divenire un'abominazione la giustizia come si potrebbe amministrare la giustizia se tutte le indicibili moltitudini che sono morte senza la conoscenza di Gesù Cristo dovessero essere affidate eternamente senza speranza alla dannazione dell'inferno anche se al tormento del primo cerchio del luogo dei dannati le scritture dicono giustizia e diritto sono la base del tuo trono venità e verità van davanti alla tua fatica la misericordia e l'amore di Dio giusto cercano di raggiungere tutti i suoi figli il falso culto pasquare oggi 8 aprile 1917 le persone delle varie confessioni cristiane in tutto il mondo si riuniscono nelle loro chiese perché è la domenica di Pasqua esse non riuniscono in chiesa non si riuniscono in chiesa perché credono nella letterale risurrezione del Signore non perché credono nella risurrezione letterale di tutti i uomini grazie al sacrificio espetore del nostro Signore né perché lo riconoscono come il figlio di Dio ammetto che c'è qualche eccezione ma io parlo in generale essi si riuniscono là per uno scopo alquanto diverso perché si usa così perché come nel caso di molte sorelle queste vogliono mostrare i loro cappellini e la foggia dei loro vestiti la gente va in chiesa più per una funzione sociale e per una sfilata di moda che non per adorare il Signore io dico questo malgrado questo quello che si legge su uno dei nostri giornali del mattino è cioè che chiunque esprima questo genere di idee è cinico ed è esterna un'opinione sbagliata i popoli delle varie nazioni che si definiscono cristiane oggi non adorano il Signore Gesù Cristo come direttore del mondo nella misura in cui facevano al tempo della fondazione della vera chiesa le dottrine oggi più diffuse contrastano con quella verità e i ministri parlano ai loro fedeli negando le spiazioni di Cristo e quindi dimostrando la loro mancanza di fede e di comprensione verso la risurrezione del figlio di Dio e negando la risurrezione universale che le scritture promettono a tutti gli uomini distruzione la politica il governo sono congiunti all'apostasia oggi in tutto il mondo come ci hanno già detto vari oratori c'è agitazione e inquietudine e molta gente si vanta di avere opinioni radicali di considerarsi progressista e di attaccare le cose che hanno resistito attraverso il tempo il mondo politico non è il solo ad avere questa tendenza c'è anche il mondo dell'istruzione della religione del commercio e degli affari in generale gli uomini abbandonano i sentieri della rettitudine per quanto buoni siano e pensano che il conservatorismo sia una vergogna che il dovere dell'uomo sia abbandonare ciò che è vecchio che è stato stabilito e di trovare qualcosa di nuovo noi siamo praticamente soli nel mondo sia assolutamente soli a rappresentare la verità del Dio vivente a dichiarare a tutti gli uomini i principi della verità eterna che non muta il Vangelo di Gesù Cristo non è nuovo nel senso in cui il mondo considera le cose nuove perché ha resistito attraverso il tempo non soltanto dall'epoca dell'avvento del figlio di Dio ma dal principio del mondo perché il piano di salvezza fu preparato per il bene dell'uomo a cui in principio fu proclamato questi principi non mutano non possono mutare ed essi devono resistere mutabilmente attraverso il tempo il mondo cristiano può essere diviso in due campi l'uno aspramente opposto all'altro definendosi uno progressista o modernista l'altro fondamentalista entrambi possono ritenere di poggiare sulla verità del Vangelo ma noi siamo fautori delle rivelazioni di Dio fatte in questa dispensazione conosciuta come la dispensazione della pienezza dei tempi le quali sono immutabili e duradure per sempre perché eterne l'evoluzione e la critica testuale fanno parte dell'apostasia questi moderni sti che con i loro insegnamenti sviano la gente di questo o di altri paesi rigettano la dottrina dell'espiazione di Cristo estri rigettano la risurrezione del Fio di Dio e di conseguenza la risurrezione di tutti gli uomini gli stessi hanno completamente scartato i miracoli delle scritture e si prendono gioco delle ordinanze di salvezza del Vangelo che il Signore ha detto essere essenziali per la nostra salvezza a loro posto essi hanno accettato le teorie e le concezioni avanzate dagli scienziati moderni se chiaramente sono false e hanno preso a cuore le menzioni esposte nelle teorie dell'evoluzione e della critica testuale delle scritture e perché hanno fatto questo perché la verità semplice che è capita tramite lo Spirito di Dio non è dell'uomo non attrae la loro ragione la ragione un falso dio della possesia modernistica si insegna al mondo ogni specie di teoria di errore sostenendo che non si può accettare altro che quello che ci insegna la nostra regione perciò se la ragione mi insegna che il battesimo non è essenziale per la salvezza mentre a voi insegna che è essenziale entrambi abbiano ragione e questa è una contraddizione che non può essere vera ed a meno che la ragione non ci insegna la stessa cosa e noi siamo d'accordo entrambi non possiamo essere nel vero e quindi non siamo sulla strada angusta né in comunione con Dio noi dobbiamo camminare in santità di vita nella luce e nella verità con la comprensione giusta che si ottiene attraverso il dono dello spirito santo promesso a tutti coloro che credono si pentono ed accettano le parole di vita eterna se siamo in comunione con questo spirito allora camminiamo nella luce e siamo anche in comunione con Dio colui che è privo della luce conduttrice dello spirito di Dio è in mezzo alle tenebre e non può con la sua ragione senza aiuto e senza luce cercare e trovare Dio la chiesa trionferà sulle modernistiche concezioni apostatiche il presidente Roger Clawson questo pomeriggio ci ha letto alcune opinioni espresse oggi dai certi ministri ipocriti che si definiscono modernisti e che sembrano essere in ascesa le loro dottrine sono in aumento e si insinuano nel cuore della gente mentre le belle dottrine di Cristo e la testimonianza che Gesù è il figlio di Dio vanno diminuendo e scomparendo dal mondo può essere vero come ha dichiarato un ecclesiastico che l'era cristiana stia avviandosi alla fine e che la chiesa sia sulla via della distruzione se si riferisce alle cosiddette chiese cristiane del momento perché la loro dottrina è falsa e fuori dal Vangelo di Gesù Cristo è una creazione dell'uomo ma il cristianesimo puro e incontaminato non è in via di distruzione esso non sta scomparendo ma al contrario si sta radicando più saldamente sulla terra e devo farlo e continuerà e deve farlo e continuerà a farlo finché non riempirà la terra perché così è stato predetto tuttavia il vero cristianesimo per ciò che concerne gli ultimi giorni è molto giovane perché è stato soltanto nell'anno 1830 che la chiesa di Gesù Cristo è stata organizzata sulla terra e il Vangelo restavrato contenente i doni e le benizioni e le grazie che esistevano nella chiesa primitiva e questa chiesa con le dottrine del Vangelo di Cristo si espanderanno